Benvenuti a tutti, sono Marco Giardino, insegno Geografia Fisica e Geomorfologia all'Università di Torino e oggi vi presenterò una serie di slide che riguardano il modellamento fluviale. Una serie di slide preparate con Chiara Audisio, che oltre a essere stata una delle mie migliori attesiste, è oggi una ricercatrice alla città metropolitana di Torino al servizio risorse idriche. Il modellamento fluviale è descritto oggi in questa presentazione dal dilavamento all'azione morfogenetica sul fiume e questo è per rimarcare l'importanza che esiste nei fenomeni di dilavamento da parte delle acque che circolano sui versanti nell'alimentare poi il lavoro morfogenetico del fiume. Si comincia sempre come geomorfologi a lavorare sul terreno e quindi vi propongo come inizio di questa lezione alcune riprese video che testimoniano il nostro sopralluogo nell'area del Sangone proprio a documentare il passaggio dell'acqua che circola sui versanti fino ad alimentare l'attività di modellamento fluviale. Oggi con questo lavoro di terreno cercheremo di riconoscere le tracce del modellamento fluviale dal dilavamento dei versanti fino al modellamento in un corso d'acqua. Su questi versanti possiamo vedere delle tracce di erosione, vediamo il suolo nudo, vediamo dei vegetali che vengono trasportati dall'acqua che dilava il versante, anche dei sedimenti e quando quest'acqua che dilava i versanti si unisce ad altra acqua che circola su questo piccolo terrazzo, vediamo che è in grado di aumentare l'energia, trasportare dei ciotoli, a volte accumularli secondo forme che vengono chiamate boulder train, queste piccole accumuli di blocchi accatastetili l'uno all'altro e poi scendere aumentando sempre di più l'energia, trasportare vegetali e quando trova questa corrente un'adeguata energia derivata dal versante può aumentare ancora l'energia e al posto di trasportare semplicemente cominciare ad erodere. Erodere e formare delle vere e proprie scarpate di erosione come questa, in cui vedete che sono stati rimossi i ciotoli che formavano questa superficie, sono stati trasportati fino a raggiungere il corso d'acqua che vediamo qua sotto. Bene, abbiamo osservato come avviene il dilavamento dei versanti e come questo dilavamento dei versanti possa trarre del materiale che viene preso in carico dalle acque che circolano appunto sul versante fino ad alimentare la circolazione dei corsi d'acqua. E' quindi importante introdurre quali sono i fattori che controllano il dilavamento, che lo condizionano, condizionando appunto l'entità dello scorrimento e anche le forme del modellamento che ne derivano. Innanzitutto dobbiamo dire che il primo fattore di controllo del dilavamento è rappresentato dalle condizioni climatiche. Le condizioni climatiche che appunto determinano l'intensità delle piogge, il regime termico del terreno, ecco queste sono condizioni che possono controllare la quantità di materiale preso in carico lungo i versanti. Naturalmente un fattore importante del dilavamento è anche rappresentato dalla natura del materiale che è presente in superficie e quindi occorre considerare la granuletria, la coesione delle particelle che costituiscono i materiali superficiali, il tipo di roccia madre, in pratica tutto ciò che riguarda il suolo e i depositi superficiali. Inoltre la topografia e la morfologia del terreno attraverso fattori come la pendenza, la lunghezza dei versanti condizionano l'energia che l'acqua che dilava al versante può raggiungere, può avere e di conseguenza può cambiare la quantità di materiale trasportato. Altri fattori molto importanti sono la copertura vegetale, il fatto che ci sia un suolo nudo oppure ricoperto da erba o ricoperto da un bosco può cambiare la quantità di acque che dilavano sul versante e l'energia stessa di queste acque. Infine i fattori antropici che sono purtroppo i principali fattori responsabili dell'erosione accelerata del suolo come fattori come il disboscamento, le pratiche agricole non adeguatamente programmate possano in un certo senso acuire il dilavamento. E queste immagini che vedete a fianco del testo della slide dimostrano come a cominciare dall'erosione determinata dalle acque che precipitano sotto forma di gocce sul terreno e si concentrano in rivoli che piano piano possono incidere i versanti trasformandosi in veri e propri solchi di erosione e poi in corsi d'acqua stabilizzati, ecco tutti questi elementi ci dimostrano l'importanza morfogenetica del dilavamento. Quali processi avvengono sui versanti? Abbiamo parlato dell'erosione della pioggia battente, anche detta splash erosion, abbiamo parlato di erosione areale, ad esempio il ruscellamento diffuso sul versante può trasformare un versante in un luogo di flusso laminare, un'inondazione a coltre del versante che trae in carico dei materiali, rende le acque torbide, aumenta l'energia fino a concentrarsi eventualmente in una serie di rivoli, un ruscellamento embrionale che può attraverso la confluenza di diversi rivoli trasformarsi in un'erosione a solchi, quindi un ruscellamento concentrato ed infine causare la vera e propria creazione di un corso d'acqua stabile. Vi sono anche alcuni casi speciali di erosione sui versanti che prendono il carico del materiale e questi sono legati al fatto che vi possa essere un'erosione sottocutanea, un piping, oppure nel caso di precipitazioni che avvengono su versanti coperti di neve il ruscellamento nivale ed infine avere i propri trasporti in massa quando l'acqua si mischia al sedimento che è sul versante e può trasportarlo per fluidificazione del suolo o per colamento lungo il versante stesso. Sono tutti processi che avvengono sui versanti e che in un certo modo preludono alla circolazione dell'acqua nel corso d'acqua vero e proprio, quindi dalla precipitazione meteorica al fiume vi sono luoghi e modi in cui questa circolazione idrica si manifesta. In questo schema sono rappresentati alcuni luoghi, ad esempio i luoghi sono sul versante le zone di spartiacque dove l'acqua si organizza per raccogliersi poi in un reticolo idrografico superficiale. Ci sono modi in cui questa acqua circola dopo la precipitazione, un po' delle acque possono naturalmente essere restituite all'atmosfera per evapotraspirazione, ci possono poi essere acque intercettate dalla vegetazione che poi ricadono a terra per gocciolamento e il grosso dell'acqua che circola sulla superficie sarà poi distribuita come dilavamento, come deflusso superficiale sul versante. Naturalmente il tipo di materiale che costituisce il versante può condizionare anche il tipo di penetrazione all'interno dei sedimenti superficiali tramite infiltrazione che poi attraverso le parti più superficiali del suolo, può diventare vera e propria percolazione e ricaricare eventualmente le falde in profondità. Tutti questi elementi costituiscono un vero e proprio sistema di circolazione idrica che può arrivare alla fine a determinare la quantità d'acqua che arriva al corso d'acqua, quindi controllando in pratica la portata del corso d'acqua. Con questo schema abbiamo visto in pratica come si distribuisce la precipitazione e come questa possa condizionare gli eventi di piena all'interno di un corso d'acqua. Il deflusso. Il deflusso superficiale naturalmente è condizione dell'attività e delle modellità del modellamento che un corso d'acqua opera sulla superficie terrestre. Gli elementi che abbiamo detto prima, cioè il sistema geomorfologico del versante che distribuisce la propria precipitazione, determineranno poi la portata di un corso d'acqua e il deflusso incanalato è opera del modellamento proprio in base al tipo e alla quantità del flusso idrico e dalla portata caratteristica di un corso d'acqua. Possiamo dire che dagli elementi del reticolo idrografico sul versante i corsi d'acqua alimentano un reticolo idrografico e questo deflusso è condizionato naturalmente dalle proprietà e dalle caratteristiche del flusso idrico. In questo schema si vede come la portata di un corso d'acqua aumenta mentre raccoglie contributi dal reticolo affluente aumentando la velocità. Esistono cioè una serie di proprietà nel flusso idrico che sono condizionate dalle caratteristiche dell'alveo, del corso d'acqua in cui questo flusso si esercita. Per esempio l'ampiezza di un flusso aumenta e aumentando l'ampiezza varia l'attrito con il fondo del flusso idrico. Quando la profondità di un flusso aumenta aumentano di conseguenza anche le capacità di erodere e di trasportare dei sedimenti. Quando aumenta l'attrito di conseguenza aumenta la possibilità di disperdere l'energia del flusso in un'area più ampia definita perimetro bagnato e quindi varierà la quantità di interazione con i materiali circostanti. Ecco tutti questi elementi del flusso all'interno di un canale fluviale possono modificare le caratteristiche del canale stesso, le caratteristiche della sponda, la larghezza dell'alveo e questo avviene naturalmente perché le proprietà idrauliche di un corso d'acqua determinano diverse velocità all'interno del canale e quindi diverse capacità di trasportare, erodere e sedimentare. Nello schema in basso a destra vediamo appunto come il flusso di un corso d'acqua possa essere laminare o possa essere turbulento in relazione all'interazione con i materiali che costituiscono l'alveo, possa essere vorticoso e quindi possono esercitarsi delle forze differenziate lungo i canali in grado poi di prendere in carico il materiale. Naturalmente questo deve essere verificato sul terreno e ora vedremo alcuni esempi ripresi durante la nostra escursione nella zona del Sangone di come il flusso cambiando lungo un corso d'acqua tributario, un torrente, possa determinare diversi effetti a carico delle sponde e anche a carico dei materiali eventualmente presenti in alveo. Quando l'acqua raggiunge il torrente disperde la propria energia in zone piareggianti, queste specie di piccole pozze d'acqua e in zone in cui l'energia è più elevata perché c'è un pochino di acclività come queste rapide e in queste rapide è in grado di trasportare dei ciotoli di dimensioni più grandi fino a circa mezzo metro che vengono accattastati un po' come avveniva nell'altra superficie terrazzata come dei boulder train, dei piccoli accumuli di blocchi accattastati uno sull'altro. Dopo aver osservato le nostre riprese sul terreno ora dobbiamo porci una domanda, che lavoro fa un fiume per vivere? Un fiume vive quando svolge sostanzialmente tre tipi di processi, quando erode prende in carico del materiale, quando trasporta sposta questo materiale preso in carico, quando sedimenta deposita il materiale che precedentemente ha preso in carico e trasportato. Queste tre azioni dipendono dalla quantità d'acqua che è presente nel fiume, quindi la portata e naturalmente dal tipo di materiale, tipologia come tipo di roccia e naturalmente forma del sedimento e dimensioni soprattutto granulometria dei materiali trasportati. Ritorniamo sul terreno e vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche del materiale trasportato e come esso si distribuisce all'interno di un alveo per effetto dell'azione del corso d'acqua. Oggi vediamo scorrere questo torrente tranquillo, senza particolari fenomeni di erosione, trasporto, sedimentazione, ma ci possono essere delle occasioni in cui il torrente cambia il suo comportamento, ad esempio quando ci sono piogge intense o molto prolungate. Ecco, in questo caso l'acqua aumenta all'interno del torrente e aumentando la portata aumenta anche l'energia e quindi questa energia è in grado di trasportare materiale molto grossolano, anche effettuare fenomeni di deformazione come è avvenuto per questa carcassa di auto che è stata presa in carico e deformata durante la piena del 2000. Una piena molto intensa che ha eroso molto intensamente il torrente, ha trasportato ciotoli molto grossolani e anche frammenti dell'auto che vediamo distribuiti sul torrente. In occasione di un evento alluvionale questo torrente può diventare pericoloso, ad esempio quando ha trasformato questa strada in un torrente. Nel 2000 l'evento alluvionale ha occupato questa strada, la riempita di sedimenti e ha eroso questo fianco del versante, più di un metro di erosione, trasportando tutti i sedimenti verso l'attuale alveo. Insomma da pericoloso è diventato anche rischioso perché se qualcuno transitava sulla strada avrebbe potuto essere coinvolto dalla piena. Esistono quindi dei luoghi caratteristici in cui il lavoro morfogenetico del fiume avviene e quindi sostanzialmente possiamo pensare che esiste una zona montana in cui si concentrano i processi di erosione, esiste una zona pedemontana in cui prevalgono i fenomeni di trasporto, naturalmente intervallati da attività deposizionali, è una zona alluvionale in cui la fada padrona la deposizione dei sedimenti. Questa schematizzazione dei luoghi del lavoro morfogenetico del fiume naturalmente non deve confonderci, esisterà la possibilità di sedimentare di erodere anche in zone montane e così via, ma come dicevo prevalgono queste tre diverse tipi di attività in tre aree diverse di un bacino idrografico, di un corso d'acqua. Questo significa che verificare l'attività di un corso d'acqua sul fiume è possibile attraverso la lettura delle forme che lo caratterizzano. Per dimostrare questo ritorniamo sul terreno e vediamo come l'azione morfogenetica di un fiume si sia realizzata al passaggio tra la collina e la piana alluvionale. Dopo aver visto il torrente che erode la collina vediamo ora come si comporta quando raggiunge il fondo valle nella pianura alluvionale. In particolare vediamo come si comporta quando interagisce con un'opera antropica, una strada e vediamo come in prossimità dell'attraversamento gli effetti dell'alluvione del 2000 avessero danneggiato quest'opera che è stata recentemente riportata alla luce e corredata di un piccolo argine che dovrebbe proteggere dall'erosione e dalla sedimentazione la strada. Ora vediamo alcuni effetti dell'interazione tra il torrente e la strada avvenuti quando l'opera di difesa idraulica non era efficiente. In particolare vediamo dei sedimenti depositati sulla strada, poi una serie di materiale flottante che è stato deposto perpendicolarmente rispetto all'andamento della corrente e poi una specie di solco di erosione e altro materiale depositato sulla sponda che delimita l'area interessata dall'allagamento durante la piena. Dalla lettura delle forme sul terreno possiamo trarre alcune conclusioni e cioè che l'acqua e i sedimenti svolgono un lavoro dipendente. Se c'è più acqua il fiume tende a erodere, se i sedimenti prevalgono il fiume tende a depositare e questa è un'azione diciamo di equilibrio all'interno di un corso d'acqua che possiamo naturalmente utilizzare non solo per leggere le forme del corso d'acqua ma anche per comprendere quali siano gli scenari che si possono verificare all'interno di un canale fluviale. In ogni caso i processi di erosione, trasporto e sedimentazione contribuiscono alla variazione di forma e alla dimensione degli elementi morfologici che costituiscono l'alveo. Quindi noi possiamo leggerli e possiamo interpretarli e capire che tutto ciò che noi osserviamo sul fiume dipende dalla velocità della corrente e dal tipo di materiale se fino grossolano. Quindi se noi osserviamo un corso d'acqua e vediamo che questa oscillazione tra erosione, trasporto e sedimentazione è regolare avremo un equilibrio dinamico all'interno delle forme fluviali oppure se una tendenza prevale sull'altra avremo una tendenza al disequilibrio e se questo fenomeno di erosione continua a ripetersi e a approfondirsi potremmo dire che il disequilibrio è totale e occorre in un certo senso verificare quali sono le cause. Le cause possono essere analizzate se abbiamo a presente come viene svolto il lavoro morfogenetico di un corso d'acqua e per rappresentare attraverso un diagramma che è basato sul comportamento fisico del corso d'acqua nei confronti dei sedimenti che trasporta, possiamo mettere in relazione la velocità della corrente crescente sull'asse delle ordinate rispetto alla dimensione dei granuli che è crescente nell'asse della scisse. Possiamo vedere come esistono dei campi di stabilità sistematici per la sedimentazione, per il trasporto e per l'erosione in funzione appunto della velocità e dei materiali presenti in alveo. Man mano che aumenterà la velocità il materiale che viene trasportato potrà essere trasportato con maggiore velocità ed eventualmente potrà essere intaccata la stessa composizione delle sponde o del canale per effetto dell'erosione. Esistono quindi velocità critiche dipendenti dalla dimensione dei granuli. Un'energia maggiore sarà necessaria per trasportare materiali di granulovetria maggiore. Qualche elemento di domanda però può crescere quando osserviamo la velocità critica che separa il trasporto dall'erosione e se osserviamo che in alcuni casi per sedimenti di granulovetria molto fine come in questo campo occorre un'energia maggiore per attivare il processo di erosione. A questo proposito occorre ricordare che la caratteristica dei sedimenti più fini, ad esempio argille, è quella di avere un certo comportamento dipendente dalla quantità d'acqua che è all'interno della propria struttura. La struttura delle argille è particolarmente resistente rispetto a quella delle sabbie che sono permeabili e quindi per le granulovetrie minori occorre un'energia maggiore per rompere la struttura delle argille e per trarle e portarle in carico, quindi trasformarle in materiale che da erosione viene trasportato. Superato questo limite però naturalmente anche le argille possono essere trasportate lungo il corso d'acqua. Acqua e sedimenti in azione quindi possono realizzarsi secondo modalità diverse a secondo delle caratteristiche del flusso. Quando il flusso è lento, la sua superficie è generalmente ondulata e la pendenza è minore, l'energia è minore. Aumentando la pendenza aumenta l'energia, la superficie del flusso diventa liscia e quando c'è un cambio di pendenza l'energia che il corso d'acqua ha assunto durante il passaggio in zone a pendenza maggiore può trasformare il flusso in vorticoso e può esercitare azione di erosione. Gli schemi che vedete a lato di questa slide testimoniano come in funzione della granulometria e in funzione della velocità del corso d'acqua ci possono essere diverse modalità di trasporto dei sedimenti. Ci può essere trascinamento e rotolamento sul fondo per i ciotoli di maggiori dimensioni, ci può essere saltazione per quelli che vengono presi in carico dalla corrente di fondo. Tutto questo materiale sul fondo è chiamato carico di fondo proprio perché esercita una certa trazione sul fondo, ne modella la forma e poi ci può essere del materiale più fine che viene trasportato in sospensione o soluzione dal corso d'acqua. Ed infine ci potrà essere del materiale, quello più leggero, quello che galleggia sulla superficie, trasportato per galleggiamento, si tratta del materiale flottante. Ecco questi elementi delle modalità di trasporto dei sedimenti sono molto importanti perché ci aiutano a leggere le modificazioni che avvengono in un corso d'acqua attraverso le tracce che il corso d'acqua stesso lascia o sul fondo del proprio alveo dopo che la piena è passata oppure sui fianchi del proprio canale, sulle sponde, per effetto appunto della differente granulitia del materiale trasportato. Ora sapendo le modalità attraverso le quali l'acqua e i sedimenti agiscono all'interno del canale possiamo definire quali sono le forme del fiume, cominciando dall'alveo che è l'insieme dei canali attivi o inattivi, delle barre, delle isole che articolano la morfologia fluviale. Innanzitutto possiamo dire che i limiti dell'alveo sono definiti dalle sponde e dal punto di vista idraulico questi limiti si fanno coincidere con la massima portata che può essere contenuta nell'alveo senza che si verifichino fenomeni di esondazione. Le forme dell'alveo possono essere diverse e dipendono innanzitutto dalla dimensione dei granuli, dalle portate crescenti che diminuiscono all'interno del corso d'acqua, dalla pendenza del fondo, dal rapporto tra larghezza e profondità dell'alveo, dall'area in cui sono distribuite le barre, dal rapporto tra larghezza dell'alveo e larghezza del canale in cui il corso d'acqua si distribuisce durante i periodi di magra, dal rapporto tra la sinuosità del canale e la sinuosità dell'alveo di piena. Insomma, queste tipologie di alveo che vengono presentate, ad esempio un alveo rettilineo oppure sinuoso oppure meandriforme o anastomizzato, oppure sinuoso a barre alternate o di tipo wandering o a canali intrecciati, dipendono appunto da queste diverse proprietà del canale e dei materiali che va a intaccare il canale durante l'azione morfogenetica. Tra le forme del fiume si definiscono poi elementi caratteristici. Nelle porzioni più depresse dell'alveo si individuano i canali in cui scorre effettivamente l'acqua. Si possono osservare le caratteristiche dell'alveo soprattutto nei periodi di magra, naturalmente, quindi si riconosceranno i tipi di sedimenti, le caratteristiche del talweg oppure ovvero della superficie in cui l'acqua scorre. Si potranno inoltre caratterizzare meglio le caratteristiche delle sponde, determinare appunto le tipologie dei sedimenti che la caratterizzano, capire l'acclività di queste sponde in funzione del quale saranno riconoscibili fenomeni di erosione oppure fenomeni di sedimentazione che delimitano lateralmente l'alveo. Potranno essere osservate le barre che sono le superfici di deposizione del materiale fluviale che di solito hanno una granometria simile a quella canale, possono essere ciotole, ghiaie, sabbie e rappresentano all'interno dell'alveo le porzioni emerse durante i periodi di magra oppure sommerse durante le piene. Naturalmente queste forme del fiume sono quelle che poi condizioneranno la circolazione idrica e quindi è molto importante delimitarle dal punto di vista morfologico, capire se sono appunto prive di copertura vegetale perché queste naturalmente, queste caratteristiche condizioneranno poi il flusso del corso d'acqua. Come tipologia di barre vengono qui descritte alcune barre a seconda della loro posizione, le barre laterali, le barre di meandro appunto disposte a fianco nel lato convesso del meandro, le barre di confluenza, le barre longitudinali disposte appunto lungo il corso d'acqua secondo appunto l'allungamento del canale, delle barre all'osanga, delle barre diagonali disposte diciamo in modo scalare lungo il corso d'acqua oppure delle barre linguoidi o dune quando i materiali soprattutto sabbiosi vengono disposti trasversalmente rispetto al canale. La tipologia di queste barre è molto importante nel condizionare lo scorrimento delle acque quindi è importante riconoscerle e vedere dove rappresentano un impedimento importante del flusso e possono condizionare effetti delle piene. Le isole fluviali che sono superfici in cui la deposizione del materiale ha delimitato un'area emersa all'interno dell'alveo generalmente hanno una superficie, una granuletria più fine rispetto a quella del canale. Possono essere sommerse durante le piene più intense e quindi possono rappresentare il luogo in cui il fiume prende in carico dell'altro materiale aumentando il proprio carico solido. Anche in questo caso è importante notare se esiste vegetazione su queste isole fluviali che possa eventualmente essere anch'essa presa in carico e rappresentare un problema che si può essere più grande. Eventi di piena che sono collegati appunto a fenomeni di precipitazione prolungata o intensa, eventi alluvionali, che sono le condizioni in cui il deflusso repentinamente aumenta, si innalza il livello idrico e quindi in base a queste caratteristiche si può definire lo stato di piena in modo da prevedere lungo un corso d'acqua quali sono gli effetti collegati. Come si innesca una piena? La condizione di innesca di una piena è quella dell'evento di precipitazione e occorre stabilire quali sono le caratteristiche, quantità di pioggia che possano attivare per ciascun corso d'acqua un determinato evento di piena. Naturalmente non esistono solo le precipitazioni come fattore di innesco di una piena ma vi possono essere altre cause, ad esempio nelle regioni montane la rapida fusione del manto nevoso oppure la fusione di masse glaciali può determinare repentini eventi di piena e questi sono probabilmente quelli più importanti in una fase di cambiamento climatico come l'attuale nelle zone alpine. Altri eventi di piena possono essere quelli legati alla fuoriuscita di acque da invasi lacustri naturali o artificiali oppure la presenza di accidentali impedimenti al deflusso che vengono poi rimossi e causano una piena locale repentina. Naturalmente queste diverse tipologie di cause dei pieni ci fanno capire che l'equazione pioggia e vento di pieno non è sempre valida quindi occorre considerare anche altri elementi che possono causare le piene. Cosa possiamo osservare durante una piena? Durante una piena osserviamo una serie di manifestazioni di diverso tipo. È importante riconoscere perché questo ci fa capire quali potranno essere le conseguenze a spese dell'alveo o delle sponde stesse o anche della pianura alliovenale circostante. Quando ci avviciniamo a una condizione di piena aumenta la torbidità delle acque. Questa è un'osservazione importante per capire che ci stiamo avvicinando a una condizione di piena. Vedremo il trascinamento di materiale fluitante, ad esempio del detrito legnoso. Ascolteremo rumori e vibrazioni del terreno e queste sono dovute all'urto di ciotoli e di massi all'interno dell'alveo quindi ci fa capire che l'energia sta aumentando all'interno del corso d'acqua. Vedremo un accentuarsi dei ferocessi erosivi a carico delle sponde o a carico del fondo e questo sarà un altro elemento importante soprattutto perché può causare dei danni alle strutture antropiche distribuite lungo il corso d'acqua e in generale osserveremo un aumento della velocità della corrente. Ecco, tutti questi fenomeni sono molto importanti perché innescano i cambiamenti morfologici, ad esempio erosione di sponda, erosione di fondo, allagamento della pianura circostante o alluvionamento quando oltre all'acqua i sedimenti trasportati verranno a ricoprire la pianura circostante, il sovralluvionamento dell'alveo quando l'alveo sarà riempito di sedimenti che prima erano trasportati e poi sono stati lasciati dal corso d'acqua all'interno del proprio alveo, oppure lo sbarramento e la direzione di un altro corso d'acqua che potrà causare appunto dighe temporanee e ulteriori piene, oppure la riattivazione di un vecchio canale con erosione e quindi ingresso dell'acqua in zone precedentemente non occupate dal corso d'acqua, oppure l'apertura di un nuovo canale diciamo del tutto nuovo all'interno della piana alluvionale. Vedremo ora alcuni di questi fenomeni testimoniati da una serie di fotografie riprese successivamente a venti di piene. Questa è un'erosione di sponda che in alcuni casi può interferire con l'attività dell'uomo asportando parte di un rilevato stradale come nel caso della Val Pellice nell'evento Luviona del 62 o come in questo caso lungo il torrente Orco con asportazione di buona parte del rilevato stradale e della sponda del torrente Orco o infine nel caso dell'alluvione del 2000 l'asportazione della superstrada a monte di Pinerolo per effetto dell'erosione laterale del torrente Chisone. Queste erosioni di sponda possono essere previste attraverso l'osservazione e i comportamenti di un corso d'acqua e anche le erosioni di fondo che sono assai più pericolose perché diciamo più subdole meno visibili durante il momento in cui si realizzano devono essere previste. Il prelievo e l'assunzione in carico di materiale dal fondo di un alveo fluveale si riscontra in tutti i corsi d'acqua ed è importante prevederlo perché possono causare queste erosioni di fondo il crollo di ponti quando le pile vengono sottoscavate. Questo è l'esempio del ponte sul Pellice presso Bibiana che purtroppo è stato tragico in quanto hanno perso la vita diverse persone tra cui dobbiamo dirlo due studenti di geologia che volevano documentare la piena. E questo ci ricorda il fatto che dobbiamo avvicinarsi ai torrenti in piena con molta circospezione sapendo che possono esserci dei fenomeni che non osserviamo ma che sul fondo del torrente per erosione possono causare l'instabilità delle strutture di attraversamento. Questo è un altro caso del torrente Cervo nell'alluvione del 1993. L'allagamento. La piena di un corso d'acqua aumenta la portata liquida e quindi inonda le aree circostanti. Questo è l'esempio prossimo all'autostrada Torino-Milano per effetto dell'allagamento operato dalla Dora Baltea nell'evento del 2000. Questo è invece l'alluvionamento, l'allagamento, scusate, operato dal torrente Chisola durante l'evento del 2002. E sostanzialmente qui possiamo vedere che i fenomeni di allagamento che sono prevedibili, sono modellizzabili, devono tenere ben in conto quali sono gli impedimenti al deflusso da parte delle strutture antropiche. Quindi l'area allagata dipenderà molto da ciò che intorno al corso d'acqua è stato costruito, oltre alla presenza naturalmente di argini naturali, perché questo condizionerà l'area occupata dal fiume per allagamento. L'alluvionamento, che è invece la deposizione di materiale fuori dall'alveo nella pianura dopo un fenomeno di alluvionamento, può interessare vaste zone. In questo caso tutta la piana alluvionale a monte di Forno Alpigrai è stata occupata di materiale detritico che si è depositato nell'evento alluvionale del 1993 e questo materiale detritico non solo ha occupato il fondo valle, ma ha anche semisepolto alcune strutture antropiche presenti in un campeggio nella zona antistante il torrente, qui siamo in Valsesia, oppure ha danneggiato le strutture spondali e di attraversamento lungo la valle principale. Sostanzialmente quello che noi dobbiamo vedere è che la tipologia e la quantità di materiale che si depositerà durante l'alluvionamento deve essere attentamente valutata perché può causare dei danni in base all'energia disponibile alle strutture antropiche. Altri effetti che osserviamo durante un evento di piena sono gli effetti di sbarramento e di deviazione di un corso d'acqua. Sono legati all'aumento della portata solida di un tributario e questo materiale può eventualmente ostruire il corso d'acqua recipiente posto sul fondo valle. L'esempio qui riportato è quello del rio Lausetto in Valle Gesso e vedete che il corso d'acqua principale è stato sbarrato per effetto della deposizione di questo materiale grossolano nella zona di confluenza. Quest'altro esempio relativo alla valle di Susa è quello del torrente Gran Vallon che ha sbarrato la Dora di Cesana in prossimità della strada statale del Mon Ginevro e ha naturalmente causato la formazione di un lago temporaneo che naturalmente è un altro elemento pericoloso nel momento in cui si svuota causando un'ulteriore piena sul fondo valle. Esempi di riattivazione del vecchio canale sono visibili attraverso queste diverse fotografie aeree nel 1957, nel 1975, nel 1993 e nel 2000 lungo il torrente Orco possiamo osservare come alcune morfologie fluviali a fianco dell'alveo principale sono state prima vegetate, quando inattive, e poi riattivate durante l'evento del 2000. Parzialmente nel 1993, totalmente durante l'evento del 2000. La conoscenza di questi canali abbandonati è fondamentale per delimitare le aree di pertinenza fluviale in modo da comprendere come attraverso la lettura di questi elementi geomorfologici ci si possa sviluppare una pianificazione territoriale adeguata conoscendo appunto le regole del fiume. A questi dati che abbiamo presentato attraverso le slide ora completeremo con alcuni dati di terreno che ci faranno vedere delle riprese effettuate lungo il Sangone quali sono stati gli effetti dell'alluvione del 25 novembre 2016 e quali sono gli elementi che resistono a più di un anno e mezzo da questo evento elementi utili per comprendere come si possa svolgere un'adeguata pianificazione territoriale e un'adeguata lettura delle forme geomorfologiche sul terreno. Ora cambiamo scala di osservazione, scala delle forme che descriviamo siamo in prossimità del Sangone e vediamo una forma di erosione negli stessi sedimenti del Sangone che è stata realizzata durante l'alluvione del 2016 in questo caso il Sangone è uscito dal proprio alveo e ha interessato la piana alluvionale asportando parte di questi sedimenti e poi sedimentando lungo la piana alluvionale vasti settori di sabbia e ghiaie minute qui siamo sulla piana alluvionale e abbiamo la prova della sedimentazione del Sangone al di fuori del proprio alveo durante la piena del 2016 l'alveo pur protetto da un'opera antropica, una scogliera è stato sopravvanzato dalle acque del torrente che ha deposto sabbie e limi lungo tutta la piana alluvionale quelli che possiamo ancora osservare oggi e che nel momento in cui si erano deposti erano caratterizzati da forme di fondo trattive tipo ripple che si è un'opera antropica Grazie a tutti. Grazie a tutti. I piedi sono sulle sabbie, del tutto simili a quelle che abbiamo visto sulla piana alluvionale e quindi significa che in questo caso l'energia è stata minore rispetto a quella in grado di trasportare questi ciotoli e questi blocchi. Alcuni di questi ciotoli e blocchi sono disposti a boulder train, sono accatastati, la maggior parte sono embricati, cioè hanno un angolo di 30 gradi con il proprio asse rispetto alla direzione della corrente. In più vediamo che in cima alla barra ci sono dei grandi tronchi, alcuni disposti longitudinalmente e altri, come quelli laggiù, trasversalmente alla corrente. E' il materiale flottante che si è incastrato sopra la barra dopo che la piena stava diminuendo la propria potenza. Questo è un altro esempio di boulder train. Si è fermato un blocco e poi uno dietro l'altro, come un tamponamento a catena, si sono fermati gli altri blocchi. Boulder train. Ecco, dopo aver visto alcune panoramiche di ripresa sull'area del Sangone, effettuate circa un anno e mezzo dopo l'alluvione, vediamo alcune immagini invece relative al periodo dell'alluvione. In questo caso vediamo l'alveo del Sangone, il canale fluviale riattivato al bordo laterale sinistro del corso d'acqua, un'area alluvionata, queste sono tutte sabbie deposte durante la piena del 25 novembre del 2016. Vediamo alcune caratteristiche di dettaglio di questo corso d'acqua. Questa è la barra ghiaiosa longitudinale che si è formata durante l'alluvione. Vediamo le caratteristiche di sedimentazione delle sabbie. Riconosciamo una piccola forma di delta in cui il canale ha eroso le stesse sabbie che aveva depositato precedentemente. Vediamo il materiale trasportato, il materiale fluitante, dei grossi tronchi che sono stati depositati dopo che si è formata la barra. Vediamo le caratteristiche delle sabbie in superficie. Si tratta di sabbie che sono state modellate a forme di ripple in funzione della corrente trattiva che le modellava mentre trasportava e sedimentava il materiale più fine, sabbioso. Questo è un dettaglio dei ripple, di queste forme di fondo che appunto testimoniano il movimento del materiale sulla zona della pianura alluvionale. E vediamo la zona invece semplicemente allagata che però conserva ancora le tracce del flusso. Vedete tutta la vegetazione è stata piegata, è stata orientata secondo la direzione di flusso della corrente. E questi sono i miei studenti che hanno rilevato tutte le tracce di modellamento e le conseguenze della piena del 25 osservando la disposizione dei detriti lungo le sponde, misurando le caratteristiche del materiale flottante trasportato e soprattutto anche osservando quali sono le caratteristiche di deposizione di materiale. Vediamo dei ciotoli embricati sul fondo del torrente orientati a circa 30 gradi rispetto all'orizzontale e disposti secondo la direzione del corso d'acqua. Vediamo degli effetti di questa piena sulle opere antropiche. Questa è una presa di un canale a monte del ponte di Sangano che è stata danneggiata dalla piena del 25 e riempita di sedimenti di tipo ghiaioso e sabbioso. Vediamo la dimensione molto grande, circa una ventina di metri, di questi tronchi che sono stati trasportati durante la piena disposti sia longitudinalmente, secondo la direzione della corrente, quando l'energia era maggiore che trasversalmente, quando la portata del corso d'acqua diminuiva e i tronchi venivano a incastrarsi sul materiale della barra ghiaiosa. Vediamo anche l'effetto della deposizione dei blocchi e dei ciotoli all'interno del corso d'acqua come questo boulder train che si è formato per deposizione di un grosso blocco e per accatastamento dei blocchi successivi, un po' come un tamponamento a catena all'interno della barra ghiaiosa. L'osservazione di queste caratteristiche, se effettuata in prossimità di un evento alluvionale, ci permette poi di ragionare su come possano essere posti in rimedio agli fenomeni di erosione, ma anche e soprattutto capire quali possano essere le misure per rendere efficienti le caratteristiche di un'opera idraulica, per evitare che venga completamente riempita di sedimenti o danneggiata dei fenomeni di erosione. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro di fare il vostro lavoro di rilevamento sul terreno in occasione dei vostri sopralluoghi, in modo tale da prevenire gli effetti più disastrosi delle piene. Grazie.